siamo in turchia come potete sentire dalla moschea in questo momento sono le 5 di mattina fa un freddo pazzesco stiamo per andare a prendere il balloon per fare il giro della cappadocia fra poco arrivano a prenderci e sarà fantastico questa è la nostra mongolfiere che tra poco ci porterà a mille metri di quota sopra la cappadocia guardate quante ce ne sono sono più di 100 e saremo in 2000 sulle mongolfiere a volare sopra la turchia stiamo per partire stiamo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.